Michela Giù per la corsa salvezza, proprio le vittorie del Lecce, questa rincorsa con la squadra di Cosmi, anche il Siena, la sotto si fa interessante ma difficile? Sì, è difficilissimo, lo sapevamo, lo sapevamo anche prima di questa partita. Abbiamo fatto 7 risultati consecutivi prima di stasera e siamo solo a 4 punti dalla quarta ultima. Questo vuol dire che è un campionato molto difficile, non stanno mollando, è giusto, sarà interessante fino alla fine. Noi dobbiamo continuare a giocare così, come abbiamo fatto anche stasera, perché tenere testa la terza squadra del campionato è importante, ci dà fiducia e dobbiamo spingere. Ultima curiosità, ti mi hai visto molto arrabbiato con Fabbrini, c'è stato un momento di tensione. Sì, perché sei a terra, dici che hai i crampi, un po' dopo ti alzi e esci da solo un po' da fastidio per la presa in giro, ma giustamente lo fa il gioco dell'Udinese. Noi in quel momento eravamo nervosi, volevamo cercare di recuperare, ma niente di che, finita lì. Finita lì, per fortuna. Però dietro c'è il Lecce di Cersei Cosme.